Occhio a Castanoss al limite, Castanoss! I pugni di Orkash! Passa verso Castanoss, gran giocata, Castanoss! Trova la conclusione, Castanoss prova a cacciare con il sinistro, Castanoss! 1-0 Juventus! 1-0 Juventus! 1-0 Juventus! 1-0 Juventus! 2-0 Juventus! Il giocatore Sornione che poi è in grado di accendere la sua squadra, lo fa a beneficio di Lerola! 2-0 Juventus! Le spalle di Poso, ma riesce a trasmettere il pallone per Castanoss, gran palla per Ken! 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 Il gol! Ha sovrastato da Brischi, poi Juve aggressiva a centrocampo con Castanoss che cerca un corridoio! Il pallone... Fanno presenti, questo ruolo gioca qua ma non abita qua, come è la città! Castanoss riesce a superare Vasco! anche un tunnel a macina e va giù l'occasione Castanos, Castanos gran numero Castanos la parata ancora Neppoli prova ad allontanare ma la sfera ancora per i giocatori della Juventus Castanos, Castanos ancora Castanos dentro palo attenzione Cassata Zero da dentro l'area la rincorsa del mancino Castano si intuisce Crisanto ma non basta e la Juventus passa ora Juventus in avanti con il traversone Castanos, Castanos si libera da percare mentre dentro su una palla la trama per la Juventus di quelle fitte forse incisive dentro il tocco ancora di Maciac per Castanos 1-0 Juve il... 7-0 Juve High- grams-